Siamo qui saliti sul ponte di comando, come si chiamerà, non so, della Santa Maria o meglio della riproduzione, bellissima, in legno ovviamente, i materiali all'epoca erano questi, e la nave con la quale c'è il petto e Americhe. Guardate, non capisco nulla di navi, di verità, ma devo dire che trovarci qua sopra in un porto proprio così suggestivo, vedete, è molto emozionante. Qui abbiamo la lanterna, ancora vedete il simbolo della città, il Genova è chiamata appunto la città della lanterna, il faro del porto. La nave si sposterà da domani verso altre destinazioni, altri porti dove altri visitatori potranno vivere questa esperienza molto interessante.